C'è una frase dello scrittore turco Oran Pamuk, premio Nobel per la letteratura nel 2006, che dice, vivi questa terra come se fosse la terra di tuo padre. Io vi presento un albero d'ulivo, che è bello, forte, importante, che è riuscito a vivere perfettamente nella sua terra, poi è andato altrove e ha messo radici. La signora Viola Mece-Sham, e non ho sbagliato, sorriso che arriva dall'Albania, mediatrice culturale, in Italia da metà degli anni 90, e qui, dico con orgoglio, vive a Saluzzo, mi sento, come dire, chiamata in causa. Fossa anche, no? Questione di una vocale. In provincia di Cuneo, insieme al suo meraviglioso marito, ha due figli e ha un papà che è stato con lei fino all'ultimo e che anche lui è rimasto a Saluzzo, perché era bello tenerlo vicino. Smetto di parlare e chiedo, qual è la sua lunga storia? Da dove parte? Partiamo dall'Albania, partiamo da una bambina molto tenace, molto in gambe, molto volenterosa, di fare bene nella vita? Sì, io sono nata in Albania tanti anni fa, ero l'ultima di cinque fratelli, e ho studiato bene nella mia vita, in tutti i gradi della scuola, ed era un dovere studiare e fare bene tutto. Quindi sono andata a fare l'università, ho fatto Biologia e Chimica, era una laurea di insegnamento e quindi io sono diventata un'insegnante di Biologia e Chimica in una scuola superiore, un liceo scientifico. Armandosi di patente? No, dopo. Dopo, dopo, dopo. Perché io la laurea l'ho presa, quindi mi sono laureata nell'80, nell'80 il sistema era ancora tutto statale, le patenti non esistevano, se no gli autisti statali che lo facevano per lavoro, quindi non c'erano macchine private, non c'era niente di privato, era tutto statalizzato. in quel sistema lì, fino anni 90, dopo la caduta del muro di Berlino, anche da noi le cose sono cambiate. Quindi io ho insegnato in questo liceo per cinque anni, poi... E le piaceva insegnare, Viola? Mi piaceva, mi piaceva, mi piaceva perché probabilmente in vita mia io non ho mai fatto un lavoro burocratico, quindi se non movimentato, l'insegnamento era un bel modo di comunicare con i miei alunni. Era anche molto più facile di ora perché la scuola era già un'autorità, quindi l'insegnante era rispettato e quindi avere un buon rapporto con i tuoi studenti era naturale, era buono. Qui io le chiedo un attimo, suona la campanella. Allora, fermiamoci per un istante perché poi in tutto questo, voi ora sentite parlare in questa maniera meravigliosa e chiaramente parliamo di una ragazza molto studiosa e attenzione, però in tutto ciò lei parlava albanese, cioè l'Italia era molto vicina e molto lontana. Qui c'è una figura che dobbiamo raccontare però che è la figura di questo papà, che io leggendo quello che la nostra Chiara Pileri ha preparato per me, per preparare questa puntata, ecco lo vediamo in fotografia. È un uomo bellissimo dai racconti che vengono fuori, un uomo che si è fatto da sole, era diventato medico, tant'è che suo papà la voleva medico, avrebbe voluto averla medico invece che laureata in chimica, ma soprattutto un uomo solare. Solare. Solare, molto semplice, amava il suo lavoro, amava la sua famiglia, faceva tutto a cuor leggero diciamo oggi e faceva tutto bene. Mio papà era un cittadino del mondo, era del 1908, quindi lui aveva girato il mondo perché era un orfano e quindi per vicissitudine della sua storia lui finisce in Turchia due volte, studia lì da piccolo, poi ritorna di nuovo e da solo trova la strada e diventa medico. Fa questa bellissima famiglia con mia madre, noi cinque figli e lui lavora con dedizione in vita sua. Qual è la lezione più bella che suo padre le ha dato? La lezione, l'eredità più bella che le abbia lasciato? Ma secondo me lui ci ha educato più con il suo esempio, mio papà era di poche parole, però aveva questo esempio bellissimo di vita e di... era un grande lavoratore e un grande amante della sua famiglia, quindi senza... non faceva rumore, mio papà era silenzioso. Che bella cosa che ha detto, come i gatti, era silenzioso, però c'era, era una presenza importantissima. A proposito di famiglia, lei si sposa, nascono due figli e poi, e qui veniamo alla storia, ma questa è una storia molto ampia, che riguarda anche molto da vicino noi, noi italiani, con la nostra storia. Ad un certo punto c'è una crisi nel suo paese, c'è una crisi economica, politica, insomma, importante e noi dall'Italia assistiamo, attenzione, non così siete arrivati, ma insomma al grande arrivo dell'Albania nel nostro paese. Parte per primo suo marito, facendo un altro giro, arrivando appunto a Saluzzo. E' stato pioniere il suo marito? Non credo, perché mio marito è arrivato nel 94. Pioniere per voi, intendevo dire, per la vostra famiglia. Sì, 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 per noi, sì, 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 noi abbiamo deciso di andarsene dall'Albania. Eccomi qua, belli che siete. Quando, grazie, quando... Va detto. Quando in Albania non si poteva fare affidamento a servizi pubblici, quali, scuole, sanità, a metà degli anni 90. Quindi noi avevamo due bambini e pensavamo di dar loro un'opportunità per il futuro andarsene. Quindi prima ha approvato mio marito nel 94, poi noi l'abbiamo raggiunto nel 95, nel luglio del 95. Però il suo marito era un poliziotto? Era un poliziotto, lavorava nel ministero dell'interno. E quando è partito sapeva di lasciare tutto? Certo, certo. Quindi siamo stati consapevoli nella scelta. Cosa le diceva suo marito da Saluzzo? Ma io una volta al telefono le avevo chiesto che lavoro faceva. E lui mi ha detto, non mi chiedere che lavoro faccio, chiedimi soltanto se lavoro. Perché era importante lavorare. Bravo. E io lì ho creato le mie... Lì ho cominciato a creare le aspettative per raggiungere l'Italia. Quindi che non sono stati diversi da quello che pensavo. E quindi... Sì, assolutamente. Le aspettative, quando si parla di un paese straniero, sono sempre... Vanno aggiornate, no? Cioè un giorno, nel momento in cui fai i bagagli, pensi che troverai... Attenzione, voi arrivavate... Per questo ho parlato di pioniere, indicando suo marito. Voi, e non c'è voluto poco coraggio, però siete arrivati in scia ad un papà e marito che aveva già aperto la strada per voi. Certo. Quindi questa è stata una cosa comunque... Certamente. ...importante. Però, di fatto, lei si è trovata... Poi arriviamo ai figli, Mila e Paolo. Anche qui c'è Paolo, c'è Saluzzo, c'è tutto. Bene, scusate, momento di autocitazione. Oh sì. Va bene, andiamo avanti. Allora, lei è appena arrivata in Italia. Una donna con laurea, con capacità di parlare e di istruire, i suoi ragazzi in Albania. Arrivata nel nostro paese, davanti a quale lavoro si è trovata? Mi sono trovata all'indomani mattina a lavare i piatti in un ristorante e sono stata fortunata. Quanto è bella, signora. Quanto è bello, dottoressa, che ne dica questa cosa. Io venivo dal Ministero della Pubblica Istruzione. Lavoravo negli ultimi anni, quindi sette, otto anni l'ultimi, nei gruppi di modernizzazione della scuola, preparazione di programmi e testi scolastici di biologia. E quindi, consapevole di cosa avrei trovato in Italia, io mi sono trovata fortunata al giorno dopo. C'era una mia vicina di casa che mi ha detto che il ristorante qui vicino cercano un lavopiatti. Io non sapevo l'italiano, una parola, quindi mi sono piombata in quel ristorante lì e quando sono tornata a casa, che mi avevano fatto l'offerta di lavoro, mi sono sentita fortunata. Ho fatto con molto piacere quel lavoro lì e con l'entusiasmo di tutti i lavori che avevo fatto prima. Senta. Davvero. Allora qua la domanda, le domande sono due. Se vi siate mai sentiti discriminati nel nostro paese, forse voi eravate un gruppo familiare, quindi forse era più facile. Noi siamo una bella squadra, quindi famiglia squadra che io ritengo che è la cosa più importante, dove ognuno ha un ruolo, nessuno fa meno e nessuno fa più degli altri. No, dire la verità non, discriminazioni vere e proprie no, qualche battuta inappropriata o qualche... Tipo? Tipo, non lo so, oppure mi viene in mente qualche pensiero in fin di bene, però non opportuno come parli bene italiano. Gliel'ho appena detto pure io, si figuri. Siete diversi, non siete come gli altri, quindi siete dei nostri per dividerti da tutta la parte albanese che a quei tempi lì faceva notizia, faceva paura. Certo, però è una notizia che, guardi, hanno fatto tutti i popoli in tutte le parti del mondo, ovunque ci sia stata immigrazione. Di fatto. Creda, creda. Non le dico più che lei parli bene l'italiano. Assolutamente. Figura orribile. Mi ha messo quattro e mi ha rimandato al posto. In maniera molto elegante mi ha dato quattro e mi ha rimessa così. Allora, da orgogliosa, e ha ragione, lava piattico, già con un contratto di lavoro, a mediatrice culturale. Come? Probabilmente io ho imparato molto in fretta l'italiano e quindi in quei tempi lì c'era... Serviva? Certo. Non sapevo. No, serviva avere una persona. Serviva una persona e c'era una marea di persone nella nostra zona che aveva bisogno di sapere l'italiano, eccetera. E c'è stato un sindaco, un comune che era sensibile ai problemi degli immigrati, che hanno organizzato dei corsi di alfabetizzazione inizialmente. Quindi mi hanno chiesto come docente di questi corsi volontari, diciamo. Dopodiché, nel 98, c'è stata istituita dalla pubblica istruzione in Italia i centri CTP che erano centri territoriali permanenti, dove c'erano tutti i corsi, i corsi di alfabetizzazione, c'erano i corsi 150 ore, eccetera. E io sono entrata come docente e ci sono stata lì per tanti anni. Signora, qual è il... come è cambiata l'Italia da mediatrice culturale che aiuta i migranti rispetto all'Italia che lei ha conosciuto quando è arrivata qui? Ma io credo che in metà degli anni 90 c'era più benevolenza dalla parte degli italiani e comunanza verso gli stranieri. Cosa che non... che viene a mancare talvolta oggi. Oggi si possono... viene banalizzato su larga scala. C'era il... diciamo... il razzismo anche allora. però oggi credo che viene banalizzato e non più stigmatizzato. Si possono esprimere pensieri abominevoli a volte sugli stranieri che pochi condannano e che talvolta vengono appoggiati da chi è al potere. Allora, questa è la storia di una donna che non ha mai avuto paura della campanella del mattino quale che potesse essere la lezione a scuola e la lezione alla fine ce l'ha da lei con tutta la sua famiglia e con Mila e Paolo e su questa immagine noi vogliamo chiudere che sono la luce della vostra vita. insomma. Mila, vediamo col titolo di laurea Mila e Paolo mi tolga solo questa ultima curiosità veloce veloce perché si chiama Paolo? Si chiama Paolo perché noi ospitavamo a Tirana due, una coppia di catechisti prima del 90 in Albania non c'erano c'era ateismo di stato dopo di che si sono state aperte le chiese eccetera e arrivano questi due signori di Trieste che facevano catechisti quindi loro sono stati ospiti da noi per un po' di anni quando io ho partorito Paolo non avevamo pensato un nome quindi lui telefona dice come l'avete chiamato il bambino diciamo propone tre nomi tra cui Luca Giovanni e Paolo io ho scelto Paolo ha fatto bene allora chiudiamo su questo sarebbero andati benissimi Luca Giovanni Viola grazie dottoressa Viola grazie di essere stata con noi all'ora solare finestra aperta ci vediamo tra un attimo arriviamo arriviamo subito si fa dare due baci posso vero o si posso farlo grazie